Buonasera a tutti e ringrazio tutti voi per la grande presenza questa sera. Mi presento, io mi chiamo Francesco Delia, faccio parte della lista Stabilità e supporto fortemente la candidatura a sindaco di Mimmo Lione. Io credo di rappresentare a Cassano quella parte di giovani sani, quella parte di giovani che si attivano per la comunità e che fanno tutto questo solo per l'amore per la propria terra. Penso che sia una cosa molto importante questa. Scusate l'emozione, ma è la mia prima volta in politica, anche se in questo territorio più volte ho dato il mio impegno affinché tutte le bellezze, tutte le potenzialità possano essere figura da mostrare anche all'esterno, verso gli altri paesi. In questo momento più che mai penso che tutti noi dobbiamo scendere in campo per dare il nostro condibuto a Cassano. io ho deciso di metterci la faccia perché davanti a questa decisione che fra pochi giorni dovremmo prendere penso che la città di Cassano sappia scegliere. Sappia scegliere tra la proposta di tornare indietro, guardare a una politica di 30 anni fa che ci ha portato in questo Stato, oppure continuare su questa linea, cioè la linea attuale, la linea che questa amministrazione ha dato, che è la linea della stabilità, la linea del buon governo. Stabilità proprio perché noi ricordiamo bene da poco tempo siamo usciti da un dissesto, da poco tempo le casse del Comune sono andate in positivo e questo è stato solo merito della buona amministrazione che è stata fatta su Cassano. Il buon governo è quell'azione che ha portato le persone in carica a Cassano ad amministrare bene, a rendere conto, a fare una politica, un'amministrazione pubblica, anche a tener conto di queste cose perché amministrare il pubblico è importante, è importante amministrare per il pubblico, quindi non per il singolo, non per pochi, ma per tutti. E questo penso che sia l'unica proposta che Cassano in questo momento offre e che si tramuta nel nome di Mimmo Lione, sindaco. Credo che questa scelta non sia difficile per i Cassanesi perché noi viviamo il territorio, noi in questi anni abbiamo visto quello che è stato fatto e quello che ancora c'è da fare, però è stato già programmato. Io come persona, come ragazzo di questa città sono molto sensibile ai cambiamenti perché vengo da esperienze anche passate al nord, esperienze fatte in grandi strutture turistiche, esperienze fatte in località d'eccellenza e mi sono reso conto che Cassano non è da meno, anzi, Cassano ha potenzialità che può arrivare altrove, può superare grandi città già sviluppate grazie al turismo, quindi dobbiamo puntare su Cassano, Cassano non deve morire, Cassano deve continuare su questa scia, la stabilità, il buon governo devono continuare a Cassano. Io chiedo fortemente a tutti voi un voto di fiducia a Mimmo Lione e anche a me che in questa città, se non nella politica però come persona, come cittadino, ho dato tanto e voglio ancora dare tanto. Grazie.